cerchi, tornatevi indietro... ma cosa?! torni dietro un attimo, se mi guarda poter vivere un altro video, non c'è la seconda parte no, stai... famici! famici! ahi, fami di dire... no ma no! che spalle! hai dispegni quella gilda, no, ma vattene via, vattene via! dai ragazzo per favore veramente un video questo vuol dire